Inter, non solo Sensi. Marotta scioglie i dubbi su Agumé. L'Inter è pronta a sciogliere gli ultimi dubbi riguardanti questo calciomercato estivo. Stefano Sensi dovrebbe rimanere in nerazzurro e Marotta cerca la soluzione anche a luce Agumé. Mancano poco meno di tre ore alla chiusura della sessione di calciomercato e la corsa. All'ultimo colpo non si è ancora conclusa. Ogni squadra sta cercando la quadra giusta, sia per le entrate, ma anche e soprattutto per le uscite. L'Inter, dopo aver preso Klassin, deve spoltire la propria rosa. L'amministratore delegato Marotta sarebbe quindi pronto a sciogliere gli ultimi dubbi. In particolar modo quelli di Stefano Sensi e di luce Agumé. Entrambe pedine messe in discussione circa la probabile permanenza sin dall'inizio di questa finestra di mercato. Il dubbio principale per il primo viene dalle condizioni fisiche abbastanza precarie, nonostante ciò, secondo